Lo spettacolo di fine anno si è chiamato Inside perché comunque, come dice stesso la parola, a noi piace entrare del tutto in quello che facciamo. Buttiamo tutta la nostra attenzione, passione, dedizione. Soprattutto cerchiamo sempre di trasportare Inside, ovvero dentro lo spettacolo, chi sta guardando e semplicemente non fargli vivere un'esperienza da spettatore ma anche da protagonista. Perché abbiamo deciso di fare il saggio all'aperto? Per svariati motivi. Allora, in primis per valorizzare la nostra bella Alzano e le varie strutture che ci mette a disposizione, soprattutto le location che sono molto molto belle, dal Parco Montecchio alla zona del fiume piuttosto che. Noi è venuta l'idea di farlo davanti al sacrato della chiesa di San Pietro. Due, perché pensiamo che comunque il teatro di per sé ti dia già un risultato, diciamo comunque una garanzia di riuscita. Ti dà la possibilità di avere tanti fattori esterni che vanno poi comunque a completare quello che è lo spettacolo. Invece noi abbiamo deciso appunto di fare uno spettacolo senza filtri e diciamo rinunciare a tutte queste garanzie, di metterci un po' più in gioco sia come scuola sia come collettivo di persone che condividono la stessa passione. Un'altra delle attività della Proof Academy, principalmente estiva, è l'Hip Hop Camp. Ormai sono già tre anni che organizziamo questi eventi estivi. Portano i ragazzi, uno, a studiare diverse discipline, due, a fare comunque diverse attività motorie e produttive per la loro soprattutto fantasia, perché comunque i ragazzi vanno in giro, abbiamo le gite al parco avventura, abbiamo le gite in piscina, la mattina fanno lezioni con diversi insegnanti di diversi stili. È il nostro obiettivo alla fine del camp di lasciare ai ragazzi delle esperienze artistiche, emozionali e relazionali, sia con i propri compagni sia con i propri insegnanti che hanno incontrato durante la settimana di studio e di divertimento. Per tutti quelli che fossero interessati poi ad approfondire questa realtà e a far parte di questa gabbia di matti, ci ritroverete a settembre qui alle scuole di Alzano Centro, in contemporanea con l'inizio delle lezioni normali. Quindi vi aspettiamo e infine non mi rimane che augurarvi buon'estate, darvi appuntamento a settembre e fare un pluff al mare anche per noi. Ciao!